Dunque ragazzi qual è il vostro problema? Dottor noi stranamente siamo sposati da un anno ma non vengono i bambini. Non potete venire figli da un anno, ma voi la seda che fate? Facciamo la cena, poi ci diamo un bacetto e ce ne andiamo a dormire. E al mattino? Facciamo colazione, ci diamo un bacetto, io ne vado a dormire e ce ne andiamo a dormire. E al pomeriggio? E ci facciamo un bel pranzetto, ci diamo il bacetto, io ne andiamo a dormire e ce ne andiamo a dormire così. Ah, ci capito, hai pulito un bambino, l'ho capito, ma vuoi farci ricco se fosse un bambino? Signora, spogliatevi e mettetevi i succhettini, ah. Avete capito? Dovete fare così tutte le sere e certamente avrete il bambino. E scusate tutto, veniamo noi allo studio, venite voi a casa nostra.